SELARGIUS Sidi perde il pallone riconquistato da Luca Lorrai Adesso Luca Chiminelli Da un'occhiata in profondità Trova Riccardo Mingoglia che lascia lì l'avversario Entra in area Ancora Riccardo Mingoglia 2-0 per l'Icnusa Team SELARGIUS però non si arrende Sidi prova il destro Vargiù manda il pallone in calcio d'angolo Con le immagini andiamo al secondo tempo SELARGIUS serve un colpo di coda Per riprendere la partita Sarà però l'Icnusa a comandare le operazioni Nel corso del secondo tempo Andiamo al minuto numero 8 Fabrizio Mingoglia Il duetto con Argioas Mingoglia che prova la conclusione da posizione impossibile Loi non riesce a metterci una pezza E la formazione di Massimo Mulas Di fatto chiude la partita La squadra ospite va vicinissima Al gol del 4-0 Nel finale calcio di punizione dal limite Se ne incarica Riccardo Mingoglia Destro, violento e preciso Palla contro il palo interno Poi ancora Riccardo Mingoglia Con Alessio Lui Che salva gli Orange In qualche modo Finisce così Al campo della futura SELES di SELARGIUS L'Icnusa Team Si riqualifica Per quello che riguarda La zona scudetto Il SELARGIUS È in crisi nera SELARGIUS SELARGIUS SELARGIUS